Come accedere alla piattaforma Perle Digitare nella barra degli indirizzi del browser https.perle4.unical.it oppure perle.unical.it Clicca sulla voce in alto a destra Login Se non sei uno studente, inserisci le credenziali assegnate dall'amministratore nella parte sinistra Se sei uno studente, effettuare il Login cliccando sull'immagine o sul link Accedi con le credenziali idem nella parte destra dello schermo Inserire le proprie credenziali Username, il codice fiscale Password, il PIN di Univex Cliccare sul Login Subito dopo aver effettuato il Login, in alto a destra comparirà il tuo nome Scorrendo sullo stesso, sarà possibile effettuare il Logout Attenzione, prima di accedere alla piattaforma Perle, è necessario effettuare l'accesso sulla piattaforma sos.unical.it Selezionare Servizi agli studenti Digita le tue credenziali Il tuo account idem è attivo Compiere mentalmente questa procedura Perle, è necessario effettuare l'accesso